Un artista esistenzialista, questo video si intitola Covid e famiglia, perché? Rifletivo un attimino alla situazione del Covid che è stata per noi e rimane alquanto delicata, rischia per certi versi anche di frantumare le nostre abitudini e più che altro anche di sfibrare il nostro sistema nervoso centrale. Quindi il bacio imprevedibile del virus sta sfibrando il nostro sistema nervoso centrale e sta frantumando le nostre abitudini radicate, tra le altre cose. Se sei chiuso in casa, in una stanza piccola, non hai un giardino, quindi spazi piccoli e intense frequentazioni tra coloro che stanno in casa, ti devi necessariamente saper reinventare, una famiglia intera si deve saper reinventare, magari in maniera che sia commovente, sorprendentemente tra di loro, ovvero essere più pazienti, più rispettosi verso l'altro, più capaci di ascolto, meno istintivi, meno rabbiosi. Quindi occorre avere un equilibrio familiare decente quantomeno e un profondo senso di fede che accomuna un po' tutta la famiglia, anziani e adolescenti, quindi comunicare i valori e testimonianze che siano costruttivi. Questo è un pochettino il senso profondo, secondo me, di quella che è la situazione legata al Covid nelle nostre famiglie. L'artista esistenzialista, buona serata a tutti.